Tutti di tenersi fuori dall'area di rigore, Contini prende la ricorsa, il fischio di Saia, parte Contini, il tiro e il gol del Legnago che si riporta in vantaggio pur sotto di un uomo. Ancora Contini, doppietta per il giovane attaccante del Legnago festeggiato dai compagni. Ottava rete in campionato per lui.